Buonasera, ben arrivati e ben trovati. Infatti torniamo a parlare di sanità, il simbolo alle nostre spalle è quello degli ordini medici della provincia dell'Aquila, sperando di risolvere quantomeno che si chiude il cerchio intorno alla questione dei subentri e nuclei di cure primarie, argomento questo di cui ci stiamo occupando da mesi, ci trasciniamo una serie di polemiche, di solleciti, di incontri, di trattative serrate con l'Ase dell'Aquila, però non se ne viene fuori. Allora pare che il dado è tratto, così hanno deciso nuovamente i sindacati, si fa per vie legali e si andrà con una manifestazione importante, la seconda o la terza credo di aver perso il conto, che ci sarà il 15 la prossima settimana nella sede operativa amministrativa, scusate, dell'Asla Aquilana in via Saragate. Torniamo a rinfrescarvi le idee, ma so benissimo che il problema è stato percepito, visto l'utenza dei nuclei di cure primarie, facciamo con dei giovani medici di famiglia che alle loro spalle hanno proprio assorbito il problema, sono il dottor Walter Lapinna, che opera qui all'Aquila. Buonasera dottore, il dottor Riccardo Cervellini, che sta ad Avezzano. Ricordiamo il vostro problema, ne ho parlato tante volte qui con Vito Albano, il presidente della FIMG e con il dottor Mauro Belmonte, voi non avete ancora avuto questo disco verde importante. Ci spieghi dottore, ce lo ricordi? Allora, circa un anno fa abbiamo fatto domanda di subentro ai medici che sono andati in pensione in questi nuclei di cure primarie, che ricordiamo sono delle strutture in cui è garantita l'assistenza H12, ai nostri assistiti, dove trovano sempre un infermiere e una segretaria. Quindi l'attività, diciamo, ordinaria viene svolta in queste strutture da mattina a sera. Noi abbiamo fatto questa richiesta, ormai forse è maggio dell'anno scorso, quindi è passato più di un anno, e non abbiamo ricevuto alcuna risposta dall'ASL. In realtà non era neanche necessario, sarebbe solo dovuta essere fatta una delibera che appunto regolarizzava il nostro subentro in queste strutture. Cosa che non è avvenuta per una serie di lungaggini, di questioni burocratiche, penso, cosa che è stato detto, non c'è la disponibilità economica. Non c'è stato nulla in realtà, perché nessuno si è degnato di darci una risposta in merito. Però le trattative sindacali ci sono state, i tavoli e gli incontri, come è andata, almeno così, da quello che avete potuto capire? Beh, finora c'è stato solo un muro, un muro di gomma, su cui tutte le nostre richieste sono rimbalzate. Quanto tempo è passato, dottor Cervellini, da quando già dovete essere messi in regola? Ecco, uso questa parola però, che era per avere l'idea. Anche nella mia zona, nella Vezzanese, è passata all'incirca un anno, da quando è stata presentata la domanda di subentro per un collega che è andato in pensione. Purtroppo ci è stata fatta una promessa, tra virgolette, con l'ultimo incontro tra il sindacato e il direttore sanitario, di far sì che sarebbero arrivate queste vendette delibere, ma purtroppo ancora ad oggi non c'è stata nessuna risposta. e siamo ancora in attesa e a per giunta ci sarà ancora questo sit-in per dimostrare il fatto che la territorialità, la medicina di base, è il primo passo, tra virgolette, per il paziente, affinché abbia una sanità giusta. Certo, è una sorta di tappo. Una sorta di tappo. Quindi se non funziona quello poi si mette il resto. E questo problema sussiste anche appunto nella zona di Avezzano. Parliamo delle conseguenze materiali per voi. Le conseguenze che si possono manifestare sono innanzitutto che i pazienti, nel momento in cui non avvengono questi subentri, e se queste strutture andranno a cadere, non avranno un'assistenza H12, dal lunedì al venerdì, con una reperibilità di tutti i medici all'interno dello studio, bensì anche una, tra virgolette, una situazione di tutela per il medico stesso, perché non dimentichiamo che anche i medici sono persone e che anche noi ci ammaliamo. E durante il periodo Covid c'è stata la fortuna che i nuclei H12, diciamo colleghi che si sono ammalati, hanno avuto anche l'opportunità di poter essere sostituiti da altri colleghi, in una situazione in cui sappiamo benissimo che anche la regione Abruzzo ha una forte carenza di medici di base e andare appunto a bloccare quello che sarà l'embrione di una struttura, alle quali le case di cure primarie, credo che sia anche un paradosso dal punto di vista sanitario. Ecco, questo diciamo in termini materiali significa che voi non avete un appoggio, una struttura dove poter... fate un po' gli abusivi, no? Complici anche magari i vostri colleghi che vi ospitano, no? No, assolutamente, abusivi no, assolutamente no, anche perché abbiamo fatto, diciamo, un silenzio a senso, nel senso che noi stiamo all'interno delle strutture, tutto è regola, stipendiamo i nostri dipendenti e così via. Abbiamo presentato la domanda alle ASD, che a quale non è pervenuta mai la risposta. A livello economico cosa cambia, dottore? A livello economico, beh, questa regolarizzazione, diciamo, dovrebbe consentirci di far fronte alle spese... E che ci sono, ecco, ricordiamo perché insomma uno pensa... Ogni struttura, ovviamente, cioè dietro una struttura uno non si rende conto magari che anche per la semplice attività della ricettazione, di chiedere una ricetta, dietro c'è lo stipendio di due o tre segretarie, due infermieri che si alternano nelle 12 ore della giornata, l'affitto del locale, le utenze, i materiali di consumo per le medicazioni, il materiale informatico, i computer, i software, tutto quello che c'è là dentro, quindi le spese sono enormi. Cioè nessuno di noi da solo potrebbe far fronte a una struttura del genere. Ricordiamo, è operativa a tantissime ore, quindi laddove non c'è la possibilità di trovare il medico uno trova questa struttura. È stata recepita in maniera chiaramente positiva dai pazienti, cioè la cercano proprio loro, mi sembra di capire. Sì, sì, ma i pazienti aquilani sono abituati a questo tipo di discorso, perché l'Aquila è una città dove gran parte della popolazione fa riferimento a un nucleo di cure primarie, quindi è una cosa percepita come la normalità. Abbiamo visto anche in altre occasioni, siamo andati a curiosare, c'è anche una missione sociale all'interno della struttura, anche con gli infermieri, quasi una tappa fissa, non so se nell'Aquilanità questa Formamentis oppure accade anche da voi. Assolutamente sì, è un punto di riferimento per i pazienti, quindi come ha detto il dottor Lapenna, è una struttura che dà un servizio, un servizio veramente vero, che non aumenta il carico all'interno dei pronto soccorsi, che non aumenta il carico appunto agli strutturi ospedaliere, che gestisce tante, tante, tante situazioni. Questo non ha nulla a che vedere con le vostre visite, le prestazioni domiciliari che fa il medico e in un certo senso non c'entra assolutamente niente, poi è proprio la struttura. Come avete fatto percepire anche i pazienti? Vi avete informati in questi mesi, dottor Lapenna? Certo, abbiamo cercato di sensibilizzarli al problema, però diciamo che non è facile comprendere che cosa c'è dietro queste strutture. E che forse uno dovrebbe capire un po' la differenza, trovarsi sguarnito e di lì insomma... Bisognerebbe tornare indietro di 30 anni per capire la differenza, quello che forse ci vogliono far fare. Eh, però io ripeto e torno a ripetere, gli incontri ce ne sono stati tanti, anche politici, che poi chiaramente la politica ha un ruolo determinante in questo, nelle commissioni, nel recente incontro con i sindacati, il vicepresidente della regione, non ricordo chi, pure lì sono state fatte continue assicurazioni, però alla fine voi sarete, come dire, vi sentite presi in giro, immagino. Assolutamente sì. Non posso dire, non posso usare termine più pesante, però a questo punto, nel momento in cui il direttore generale stava mettendo il sigillo reale su questo famoso documento, e poi niente, poi è accaduto il fattaccio dell'ASL, la garage, lì ha bloccato ancora tutto, no? Se c'era qualche spiraglio, magari si è arenata la cosa. Non sappiamo se c'è correlazione, non pensiamo che sia correlato il fatto. Però, insomma, la trattativa era finita col direttore generale, che si è preso l'impegno di fare queste delibere. Oh, il problema, l'abbiamo ricordato anche altre volte, si trascina oramai da più di un anno, no? Siamo quasi verso i due anni. No, è un anno... Sì, oltre un anno. E siete a conoscenza in altre direzioni sanitarie, e non solo, mi riferisco anche in Abruzzo, che ci siano problemi simili... Non sono state presentate questi problemi. Questa problematica non c'è stata. Eh, anche nelle AST prozesi, no? Come avviene? Sono avvenuti regolarmente. Ma questo non ve l'hanno detto nel momento in cui siete diventati medici di base, non vi è stato detto, oppure poi avverrà dopo tutto il resto, la sistemazione? Questo non avete avuto? Assolutamente no. No, assolutamente no. Oh, ho capito. Le persone che voi avete sostituito, i medici, insomma, gli storici medici, perché qua abbiamo perso di vista, insomma, volti storici, no? Vediamo un ricambio generazionale importante. Che cosa vi hanno detto? Nel senso, avete ricevuto consigli, vi hanno detto di comportarvi in un certo modo, perché immagino siete giovani, c'è ancora un'interfaccia con i vostri colleghi. Che cosa vi hanno detto? Naturalmente c'è tutto il loro appoggio, come sono stati presenti a tutti i sit-in, e a tutte le manifestazioni, esprimono tuttora ancora ai pazienti la loro, diciamo, posizione nel voler tutelare i nostri subentri, soprattutto dei giovani medici, e quelli che verranno, perché non dimentichiamo che come siamo bloccati anche noi, arriveranno e ci saranno ulteriori pensionamenti. Quanti, dottore, quanti pensionamenti sono in arrivo sull'Aquila? Non lo so, però... Mi sono fatto un punto di almeno tre o quattro ancora. La tendenza è quella della desertificazione della medicina territoriale in Italia, proprio, al di là dell'Aquila. Certo. Quindi se non si crea attrattiva verso questa professione, cioè rendendola più semplice nella gestione, magari sburocratizzando e togliendoci questi problemi anche di gestione... Poi il medico alla fine, in alcuni casi, è visto proprio come il burocrate, no? Quello che bene o male ti fa la ricetta, non è concepito, almeno in alcuni casi, come il clinico. Il principale clinico è quello fondamentale, no? Su questo stiamo cercando di muoverci, anche con il sindacato, per semplificare un po' la burocrazia, per tornare a dedicare più tempo ai pazienti, magari. Visto che sono affari che vi riguardano a livello economico, eccetera, e siete dei singoli, io capisco che poi l'Unione fa la forza, uno si fa sentire, i politici alzano la bandierina bianca, oppure mette quella dei pirati, ma avete... volete intraprendere delle azioni personali? Io mi muovo col mio avvocato e ci metto l'avvocato, faccio di mio, cioè avete pensato a questo? Ci stiamo, tra virgolette, confrontando con tutti gli altri colleghi per vedere, qualora fosse possibile, o con il sindacato anche, muoversi per vie legali. Servirà questa manifestazione, secondo voi? Questo è netto? Noi ce l'auguriamo sempre. Spero sempre che sensibilizzi sempre di più le persone per far capire, appunto, che la situazione, spero che non avverrà mai, è quella della chiusura dei nuclei. Ci sono stati dei segnali anche importanti, che ne so, di sostegno anche da parte dell'Ordine dei Medici? Beh, c'è stato l'appoggio, ma... Oltre questo, insomma, niente. Siamo fermi. Dal farsi vedere a determinate manifestazioni, però da prendere le reddine nella situazione, uno deve centellinare, perché poi sono bravi tutti a... Non è la loro competenza, perché ci sono proprio strutture, appunto, che garantiscono questa situazione, come un direttore sanitario, un direttore generale, che devono provvedere loro. E singolarmente voi non avete... Sembra che sto facendo un interrogatorio di garanzia. Singolarmente voi non avete intrapreso nessun tipo di colloquio, anche personali, anche con gli uffici, la parte tecnica dell'ASL. Assolutamente no. Quindi si va avanti così. Ormai l'unica via sembra quella legale. E certo, quello intendevo. Quindi sì, ci siamo mossi, ci siamo informati, abbiamo avviato un discorso. Poi, ovviamente, strada facendo, vediamo come si mette la situazione. Ah, quindi voi volete, cioè avete, diciamo, aperto un barco, diciamo così, a livello legale. Avete messo un po' di cose sul tavolo. Vedete un po'. Ma questa cosa non viene contro, nel senso un atto d'imperio, ho visto tutto questo periodo. Bisognava anche avere un attimino di, come dire, no, di coraggio, però dire, vabbè, basta, andiamo, no? Allora... Vedere, vedremo se cambiano idea, vediamo che non ci sono elezioni prossime. Assolutamente, ma sappiamo bene che le vie legali non sono, diciamo, la via più giusta a volte. Nel senso che muoversi dal punto di vista legale potrebbe bloccare, potrebbe creare stallo ancora in determinate situazioni. Quindi noi abbiamo sempre preferito avere un incontro, un discorso, con, appunto, le figure che adempiano ai propri doveri. E nel momento in cui, appunto, si passano mesi e mesi per arrivare ad anni, credo che adesso partiremo proprio per vie legali. Faccio una domanda che spazia un po' dalla parte burocratica. Come è stato il subventro? Perché voi verrete sicuramente da sostituzioni, esperienze in guardie mediche, in distretti, e poi si va direttamente a interfacciarsi col paziente. Come è stato l'impatto? L'impatto dell'ambulatorio con il paziente, voi siete giovani medici. Vabbè, io personalmente sono sul territorio da tanti anni, quindi è stata una continuità. Non c'è stato un impatto. Già ci stavo dentro il nucleo a fare sostituzioni settimanali, quindi non è cambiato nulla. Semplicemente un rapporto più continuativo con i miei pazienti, che ora sono i miei pazienti, e non quelli di un altro medico. Ho chiesto anche a un vostro collega poi imparare a conoscere i pazienti. No, non è semplice. Non basta nemmeno uno schedario con le cose. No, è un rapporto di fiducia che si crea nel tempo, che è una scelta del paziente, libera scelta del medico. Non vi dispiace quando, ad esempio, i vostri pazienti magari hanno una rugna, un trip, qualcosa, chiamino il loro medico di prima. Vabbè, lo chiedo al dottore, perché poi il dottore viene visto o no. Allora, no, perché c'è sempre un bel rapporto di fiducia e soprattutto anche il popolo, se per sé le strutture dei nuclei di cura primaria, fanno sì che anche un giovane medico, nell'affrontare questo mestiere, venga molto più tutelato. C'è l'esperienza di altri colleghi che possono far tanto, fare la differenza e quindi dare un mestiere che è stupendo, a mio avviso. Il contatto con la gente, le visite, si crea... Assolutamente sì, si crea una situazione che davvero, ribadisco, che è una struttura che a livello, dal punto di vista sanitario, possa essere un'eccellenza. Sì, come lo era una volta, no? C'era il maresciallo, il sacerdone e il dottore. Era visto in... non che sia meno autorevoli di prima, però rappresentava un po' il centro della territorialità. Assolutamente. L'ospedale si pensava di meno. Come sarà questa manifestazione, dottore? Semplice sit-in? Speriamo più importante della precedente. No, vabbè, perché poi le sposano, dicevo anche prima, le sposeranno sicuramente i vari politici di turno e insomma... Poi cavalcare l'onda non è... Spero che si mettano le carte in regola per una volta, che ci sia la trasparenza che è quella che denota la nostra struttura e quello che è il nostro mestiere, di dire, ok, la situazione è questa, andremo avanti. Sì, andranno avanti le strutture, no? Ma il vostro sindacato, che sindacato siete voi della FIMG? Sì, nella FIMG. Cosa vi hanno consigliato? Albano, cosa dice? Aspettiamo ancora? No, Albano ci ha detto procedete per via legaia a questo punto se non si sblocca la situazione. Quindi ci siamo adoperati, però i tempi sono lunghi, non è che uno chiama un avvocato il giorno dopo e inizia la causa. Quindi, insomma... Siamo in attesa. In attesa. Possiamo sperare in qualche cosa, non lo so, vedremo... Anche perché poi questo sciopero, questo sit-in di protesta va in contemporanea con altro sit-in che si svolgerà a Pescara, e i medici della NAO davanti alla sede dell'assessorato alla sanità, proprio per altre questioni impellenti. Quindi un po' l'ASL circondata in questo caso. Impegnata sulle fronte. Non lo so se troverete qualcuno in questo caso, non lo so, perché poi quando si tratta di manifestazioni nessuno... Anche se non ricordo male, poi c'è stato un incontro, li ha avuti, il Vito Albano con il direttore romano. Come siano andati, non lo so, però siamo rimasti tutte un po' le cose campatinare. Ho dimenticato qualcosa, volevate dire qualcosa da ultimo, cari dottori, niente. Niente, speriamo che vada per il meglio. Invitiamo anche i vostri assistiti alla manifestazione. Assolutamente sì, assolutamente. Ecco, mi chiedo, è che rimane sguarnito l'ambulatorio? No, no, assolutamente no, non rimarrà sguarnito. Non rimarrà sguarnito, quindi no, perché magari dicevano stanno tutti facendo il sit-in e non ci sarà nessun ambulatorio. Sarà data l'assistenza sempre. Va bene, io spero, incrociamo le dita, spero che almeno qualcosa si muova, lo diciamo sempre, ne stiamo riparlando. Io spero di no, però siamo a vostra disposizione per poterne chiaramente riparlare, cercare di chiudere il cerchio. Io vi ringrazio, ricordo i vostri nomi. Il dottor Walter Lapenna, che è all'Aquila, però non è dell'Aquila, è pugliese, si sente. E invece il dottor Cervellini, che è a Marzicano. Dov'è il nucleo di cure primaria? Il nucleo di cure primaria è proprio vicino al centro, si chiama nucleo di cure primaria, HERT. E quanti siete? Siamo in sette. Ah, sette. Invece il dottor Lapenna? Il nucleo di cure primaria è sito in Via Aldomoro, che sarebbe il vecchio con le maggio 2. Sì, esatto. E sono dieci medici. Ah, insomma. Che utenza ci avete? Tanti accessi, immagino. Gli accessi sono tantissimi. Immagino. Quindi numeri, numeri, numeri altissimi. Non ve li dico, se li avete calcolati, però mi fece vedere Belmonte che c'erano dei numeri veramente imbarazzanti. Sì, parliamo di tante migliaia di accessi ogni mese. Va bene, allora io mi fermo qui. Grazie a voi che ci avete fatto compagnia e avete ricordato la questione. e speriamo di non riaggiornarci, che ci siano notizie positive, oppure riaggiornarci chiaramente con i nostri punti informativi dei Tg per darvi qualche buona notizia. Grazie ancora per la vostra attenzione e buonasera a tutti. Grazie. Grazie a tutti.